Mi fa piacere parlare di Cesare Pollini in questo luogo, la sede dell'Accademia di Padova. Cesare Pollini è diventato socio corrispondente nel 1896. È un musicista certamente oggi non molto noto, molti ancora non lo conoscono, ne hanno dimenticato il nome e anche tra i cultori della musica classica non tutti conoscono questo musicista-compositore. Oltre a Cesare Pollini, Torreglia ha ospitato personaggi tipo Jacopo Facciolati, Giuseppe Barbieri e lo stesso Roberto Ferruzzi, che è stato anche amico di Pollini. L'amicizia di mio padre per il maestro Cesare Pollini, fraternamente ricambiata, cominciò tra il 1897-98 e nell'antica villa, Rasi Isabella, ebbero inizio le serate, i pomeriggi e le mattinate musicali. Pochi sanno che Pollini, personaggio così serio, così impegnato, nell'utilità della sua famiglia, fra i suoi amici, si abbandonasse anche a trattare argomenti più leggeri. Grazie a tutti.